Charles, perché quella testa vuota piagnucola che il Collective ci ucciderà a tutti? Non riesco a smettere di pensarci. Il Collective è davvero un pericolo. Certo che no. Il Collective non può essere pericoloso. Semplice. Solo chi lo possiede può esserlo. Perché mischiare arte e omicidi? Cosa ha in mente quella serpe? Ho eseguito una diagnostica del tuo corpo. L'accesso ad alcuni componenti interni mi è precluso. In teoria Petroff potrebbe tentare di interagire con quei componenti per influenzarti. Si trova in uno stato di tensione psicologica estrema proprio come te. Te ne accorgi solo ora? A seguito della scarica elettromagnetica somministrata da Petroff, ho eseguito un riavvio e rilevato la presenza di componenti interni non autorizzati. Non ho dati sufficienti per determinare se siano stati occultati ai miei sistemi durante la mia prima installazione. Quindi cosa sono? Sono aree vuote, nascoste ai miei algoritmi diagnostici. Potrebbero essere cavità polimeriche causate dall'utilizzo continuo delle abilità del guanto oppure fuori di proiettile, nella tua testa. Vabbè, usciamo. Allora, è passato veramente tanto dall'ultima volta. Stavo aspettando una pezza. L'ultima volta che l'ho giocato era il 13 marzo. Siamo al 6 aprile. E' uscita finalmente una pezza, la 1.04, quello che è. In realtà non ho visto nessun riferimento al problema che ormai dovreste sapere. Quelle che io chiamo fake save, cioè fa finta di salvare ma non salva. Ok, che avevamo visto proprio nelle ultime... L'ho fatto per due volte e l'ho fatto proprio nell'ultima registrazione in cui io ho salvato mille volte. Poi mi è venuto il dubbio di controllare e non c'erano i 6. L'ultimo era la registrazione precedente, una cosa assurda. Non lo so, secondo me è capitato due volte e non... Ripeto, non credo di essere l'ultimo che ha questi problemi. L'unico che ha questi problemi, quindi... Non lo so, ho aspettato, però appunto non ho detto niente. Anzi, in compenso c'è chi si è lamentato, per esempio, che gli altri problemi. Sembra che abbiano fatto anche un downgrade del tipo che adesso la vegetazione spunta all'improvviso. Cioè, perché poi fanno così, no? Quando non riescono ad ottimizzare... Allora, già presentano i giochi con una certa grafica e quasi sempre fanno un downgrade per la release. Poi può capitare che quando iniziano a... E se ci sono i problemi di prestazioni, comunque tanti si ne lamentano. Loro lo fanno. Fanno un ulteriore downgrade, vero e proprio, in cui appunto, non so, riducono per esempio la distanza in cui gli oggetti sono visibili e altre cavolate, insomma. Invece di ottimizzare quello che c'è, migliorare magari quello che c'è, fanno queste cose. Quindi adesso, non lo so, è passato, come avete visto, quasi un mese all'ultima volta. Quindi, spero di ricordarmi i comandi. Quella cosa che adesso ho tagliato, credo che l'avessimo già sentita, quindi non c'era bisogno di risentirla. E niente, no? Andiamo. Potrei già fare una prova in realtà. Vediamo un attimo. Ma il problema è che non lo fa sempre. Come vedete. Mi stavo raccontando una stronzata. Per ora l'ha salvato. Il problema è che anche altre volte l'ha salvato. Cioè, erano passate almeno due o tre registrazioni da quel problema. L'ultima volta, per fortuna, ho controllato. Perché io dico, cioè, ma se uno dovesse giocarci sei ore di fila, no? Tre ore di fila. Quinta il gioco. Poi, come mi è successo a me, rientra nel gioco. Nulla. E fermo a quelle ultime tre ore cancellate, letteralmente. Per me che sono streame è un problema ancora più grosso, ma in generale per chiunque ne voglio dire. Quindi non lo so. Adesso credo che dovessimo andare a vedere se mi ricordo quello che dice di qua. Perché qua avevamo risolto questo enigma. Mi darà, se non è... Allora noi, se non ricordo male, avendo risolto queste, delle posizioni delle ballerine, se ero aperto qua. Quindi in teoria non abbiamo visto nulla qua. Poi l'ho salvato. Ma perché c'è l'indicatura di là? Sentita, coglione! La festa è finita! Eccoti qui! Sempre col fiato sul collo! Dov'è lei? Larissa, dici? Beh, lei ormai mi ha lasciata. Non so dove possa essere, forse è morta. Molotov invece non ha creduto a Sechenoth, vero? Molotov è morto! Allora torna tutto. Tutto cosa? Il collettivo verrà attivato e sarà la fine di ogni cosa. Che cosa? Che c'è di male a controllare i robot con la mente? Hai creato tu quel sistema, coglione! Però io non avevo la minima idea di come volessi utilizzarlo Sechenoth. Però almeno lui non voleva ammazzare nessuno. Ah! Ma davvero? E tu gli credi anche? E allora perché dei pacifici robot hanno iniziato a fare a pezzi le persone? Perché tu li hai riprogrammati, ecco perché! Ah ah! Stai scherzando? Ma quanto sei stupido! Hai anche la benché minima idea di quanto tempo sia necessario per scrivere un algoritmo funzionale per un singolo robot! Qui abbiamo decine di modelli! Quindi? Ah ah! Ve lo spiego! La modalità combattimento è stata programmata durante la fase iniziale del progetto. Certo, nessuno pensava che sarebbe stata attivata nell'Unione Sovietica e questa è tutta colpa mia! Ma... Posso assicurarti che i piani di Cecilum vanno ben oltre! Vanno ben oltre tutto questo! Quell'uomo deve essere fermato! Strunzate! Sono stanco di questa merda! Ora mi direi come disattivare la modalità combattimento dei robot! Ah ah ah! Mi spiace! Ma non succederà! Ah invece... Sì! Ormai è già tutto in funzione! Siamo! Questo sarebbe dovuto essere... Ora basta! Un giorno speciale per noi! Volevo chiederle di sposarmi subito dopo il lancio del Collective e sarebbe stato così simbolico farlo proprio in questo... teatro! Ehi! Le mani! Da questo alla risa! A merda! A merda! A quella puttana! Va! A flash! C'è... Che cazzo maledizione! Sono un po' inquietanti questi, non è che fanno... Merda! Fanculo! Stavolta sei morto! Merda! P3 a Celomei, rispondete! Era ora! Ce l'hai, Victor? Petroff si è suicidato in modo molto creativo e... non sono riuscito a fermarlo Maledizione! La sua testa è intatta? Sì! Ce l'ho davanti! Tieni la testa a sicuro, P3 invierò un contenitore speciale Mettila lì dentro e il resto verrà fatto in automatico Ci qua ci seguono un po' inquietante Vabbè Sbagliato 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 Di nuovo Il rinunso e l'autocomposizione non ti abbandonano a noi Non mi fanno uscire a questi? In effetti non mi fanno uscire Allora, quindi Poi tra l'altro è stato perfetto fermarsi da, tra virgolette un probabile boss Quindi qui come facciamo? Poi c'è ancora questi problemi del cavolo L'unico i giochi è scaramente L'unico i giochi che per esempio anche la S&TV fa così Parte Tu lo sette per giocare qua va sul secondo monito Quindi adesso ho fatto un alt tab e risultava il mouse di là ma il puntatore del mouse di là ma io non l'ho messo in là Comunque vediamo che fanno questi mi sa che non è così che si fa Ottenitore per la testa Mentre va adesso sapere qua come si fa questa cosa Signori Vi diamo il benvenuto al più grande spettacolo sulla Terra Oggi vi favoriamo il debutto di un nuovo astro nascente Vi preghiamo di scusarci se l'esibizione non ci aspetta La signorina è un costo timida ma imparerà presto a stuzzicare la vostra fantasia Non c'è nulla di male se vi provo che a un povero Con più grande piacere vi presento la splendida deliziosa Natascha Te pareva Salve Natascha Bellissima sei Mi ricordo che con l'altra funziona vulnerabile Non so mai cos'è quel simbolo lì è immazzata Perchè uno quello rosso doveva essere il fuoco L'altro quello blu doveva essere l'elettricità questo qua marrone non c'è l'elemento Terra per cui Meglio quello giallo doveva essere l'elettricità forse c'era quello giallo mi sembra quello blu doveva essere il feldo Passar qua mezz'ora Allora facciamo un'altra cosa Come si faceva Ecco lo volevo fare Questa volta mi sa che sono le danne Questa volta Questa volta l'ho preso Questa volta l'ho preso E' la questa volta colpia Quella Anche con questo sta facendo i danni però di meno mi sembra Questa volta Poglio. Poglio. Questi sono i mini di prossimità Fa danno questo, quindi sono sempre lì Vediamo di questo, vieni Questo è dentro Hai perquisito il corpo di Petrov, ragazzo mio? Hai trovato qualche anello d'oro? No signore, Petrov non aveva nulla Molto bene, hai rapporto al complesso Pavlov immediatamente? Sì signore, ci vado subito Il complesso Pavlov non è quello... Qui non si può Non è quello dove c'è l'altro cosa Vediamo un attimo l'ambiente Cosa è che mi blocca? Non c'è niente, va? Ehi tu, sì tu, faccia daimit, vieni qui Che cosa hai detto? Oh cielo, davvero non capisci il semplice linguaggio umano? Beh, non importa Trascina il mio corpo fino all'entrata Quando arriveranno i soccorsi Voglio che trovino me per primo Il mio magnifico corpo grazierà le prime pagine dei quotidiani Ovunque, non solo nell'Unione Sovietica Su, sciocchino, non startene lì impalato come un dilettante Te lo ordina il direttore del teatro Quindi sei tu ad aver trasformato questo posto in un bordello? Oh, sei uno di quei moralisti conciuti Ho dato alle persone quello che volevano e meritavano Tutto può essere comprato e venduto E l'anima di ognuno di noi ha un valore di mercato Bisogna solo essere in grado di leggere l'etichetta Sei dannatamente esigente per essere un cadavere, sai? Ma non mi dire Stai mostrando i denti? Un'espressione deliziosa per quanto plebea Ricorda, ragazzo Gonfiare il petto e mostrare carattere Non significa necessariamente possedere tale carattere Forza, fai quello che ti dico Sei il lacché di Sejanov Dovresti essere abituato a farti comandare Ah, ho perso la voglia di parlare con te Chi è che è la felda fazza? Allora Poi anche gli scontri con i boss Siamo questi Il lacché Adesso ero un po' distratto E devo rimettermi un po' in linea Con Però in effetti basta appunto usare Quello Bazzucca e via Allora Adesso noi siamo intatti in una stanza sbagliata Subito vediamo se Sbagliato Qual è il tuo stato attuale, compagno maggiore? Rilevo una perdita di attenzione E un'intensa ondata di emozioni Il mio stato? Sto perdendo la testa Ecco il mio stramaledetto stato Ho fallito nuovamente la missione Viktor è morto Lasciandomi con una testa in barattolo E Sejanov Crede che sia tutto rosa e fiori Cazzo Lo capisci? No, compagno maggiore Ho fatto molte stronzate Nella mia vita Ok? Ma non mi sono mai trascinato dietro una testa Come un trofeo Hai visto? Quel robot gigante nel teatro C'era un robot militare Nel teatro, Charles Ma sai cosa mi fa davvero impazzire? No, compagno maggiore Gli anelli Quei fottuti anelli Che mi ha dato Petrov E sai perché mi fanno impazzire? No, compagno maggiore Nemmeno Io Merda Non importa È una tupa È tutto a posto Sta bene Sta bene Dico non può essere un po' preoccupato Per quello che sta scoprendo Non lo so Mi turbano ma non lo so Siamo diretti a Pavlov Ed è... Pavlov è un complesso segreto Ubicato in una sezione remota Della struttura 3826 Detta Sakalin A causa delle numerose forze nemiche Sarebbe difficile raggiungerla a piedi Consiglio l'uso di un veicolo Inoltre compagno maggiore Questo è il momento ideale Per potenziare al massimo Il tuo arsenale Cercare altri terreni di prova È altamente consigliabile Quindi era risolta così Ma cosa siamo al finale magari Cioè io mi sono fermato al finale di nuovo Mi è successo un po' così con Forbidden West Perché Avevo avuto problemi personali Che non sto qui a parlare Ma ho scoperto poi Che in realtà effettivamente non mancava molto Al finale Sto parlando che l'avo sospeso l'anno scorso Basta lamentarsi Però sembra anche che Sembra anche che effettivamente abbiamo fatto E soppravamo uscire Ma abbiamo fatto questo discorso Della autorizzazione in corso Maggiore NICEF Nomi in codice P3 Accesso consentito E qui poi bisogna capire tutto qua Com'è che era Questo ce l'abbiamo Questo è un'unica reale Bisogna avere potenziale Più che altro Ragazzone Com'è che era messo Vedete i classici Mina trappola Vabbè Vedete la guida automatica Il poligono 11 Questa è la poligono 11 Vabbè Deposito Il rovinamento Possiamo mettere via questo Sposta Prendere uno da 90 Possiamo mettere via questo Prendere un altro da 6 Questa mi sembra che ci siano No Dipendere da alcune Le grandi Basta Allora E sappiamo uscire Vediamo un attimo la situazione Vi controlliamo Ok Ok Grazie a tutti Ok, qua erano già venuti Così abbiamo aperto da dietro Una nuova serie di robot per il vostro intrattenimento Il prossimo spettacolo sarà ancora più interessante Per favore, tornate tra un anno per il seguito Vedo che lo spettacolo vi ha fatto così Che non volete andarvene Sto sentendo le stronzate che dici Non spegnendo tutto Chi era questo vero ha vitto? Il problema è che Noi siamo andati direttamente nella stanza Ma non abbiamo visto quella zona lì Il problema è che qua siamo usciti da un'altra parte C'erano delle scale per esempio a salire E c'era un corridoio breve Ma c'era un corridoio E qua mi sa che invece usciamo direttamente E' di nuovo una situazione di questo tipo Com'è? Maggiore P3 Ti sto aspettando al complesso Pavlov È tutto pronto per il tuo arrivo Arriverò il prima possibile Ti suggerisco di usare un'auto Per spostarti tra i complessi di ricerca C'è stata un'impennata nell'attività dei germogli sulla superficie Questo posto sta praticamente brulicando di mutanti Bene, mutanti Ricevuto È tutto? Solo un'altra domanda No, Filatova non c'era Capisco Non hai trovato alcun anello sul corpo di Petrov, vero? Due anelli con la scritta beta 1 e beta 2 incisa all'interno No, non aveva nulla del genere Passo e chiudo Ah, hai guardato almeno Cosa sta facendo? Sta colossando Cioè queste qui sono le intimidazioni Come va, figliolo? Sei sempre tutto intero? Ehi là, nonna Zina È molto che non ci vediamo Ho avuto giorni migliori Ma suppongo di essere ancora tutto intero Ho sentito bene? Hai finalmente preso quel bastardo di Petro? Non le sfugge nulla, eh? Sì, me ne sono occupato In realtà se ne è occupato da solo prima che lo prendessi Non ti preoccupare Se hai preso la sua testa Significa che presto finirà tutto E poi potrei farti una dormita Ora sì che ci capiamo, nonna Zina Posso fermarmi per una tazza di tè? Fermati quando vuoi, figliolo Comunque, per caso Hai trovato qualche anello d'oro con delle incisioni Mentre davi la caccia a Petrof? No, nonna Zina Petrof non aveva nulla Beh, va bene così Sta attento e fermati pure qui Se hai bisogno di qualcosa Come fatemi capire È passato un mese Ma qua sono spariti gli alberi in effetti Mi sembra Sono tutti gli altri che mentono Nemmeno io e il dottor Sechenov l'avevamo previsto Conclusione fondata su quali basi? Ho pensato alle parole di Petrof Puoi essere più specifico? Petrof ha detto che la modalità di combattimento È stata programmata nei robot in fase di costruzione Non avrebbe potuto riprogrammarli per conto suo Aveva ragione Come mai? Petrof era un rammollito Era un informatico, non un soldato Ma questi robot sanno combattere Non avrebbe potuto programmarli Perché non sa nulla di combattimento Quella Natasha era armata di missili, cazzo Dove li ha presi? È un robot costruttore Petrof non avrebbe potuto equipaggiare Quei lanciamissili Non è un ingegnere Non poteva accedere alla fabbrica dei robot E a portare modifiche Ha ingannato Lab Centrale Convincendolo che persone innocenti Fossero un esercito invasore Allora perché un robot costruttore Dovrebbe avere dei lanciamissili incorporati? Perché un drofa civile è armato di cannone O un gufo di una mitragliatrice? I segni sono ovunque Come dicevi tu Dopo aver analizzato il tuo filo logico Devo trarre le stesse conclusioni Soprattutto perché i tuoi sospetti Sono più giustificati di quanto pensi In che senso? Ascolta questa registrazione Di che doveri sto parlando Compagno Sechenov Forse non si rende conto Che se per caso Gli americani scoprissero Che i suoi robot Possono passare alla modalità combattimento Allora il suo bel progetto Finirà in eccesso Con mio rammarico Non ho prestato particolare attenzione Alla frase I suoi robot Possono passare alla modalità combattimento L'ho considerata Una colorita espressione di Molotov Per screditare Sechenov Ma che sei scemo All'impreviso sei scemo Il Politburo sapeva fin dall'inizio Che i robot civili sovietici Avevano una modalità combattimento Il progetto Atomic Heart Petrov non mentiva Sechenov e il Politburo Vogliono conquistare gli Stati Uniti E il mondo intero Che intendi fare ora? Pensare Allora Ho messo a me Non ho più i dubbi qua Allora Sono fatto Per curiosità Guardare un video Che è più o meno Di questa zona Un mio video Di questa zona Pensano che ci sia Un buono percentuale Di visitazioni in meno In più Il gioco Gira Come al solito A Molto alto Per cui Che è una pratica Che non si deve fare Cioè Ma che quella È una specie di scorciatoia Per me Cosa sta facendo? Che ha fatto? Ha fatto un salto In una pratica Non si dovrebbe usare Perché si collassa Si rischiano Stuttele Si rischiano stronzate Come appunto Tra l'altro Appena successo Nell'uscire No Guarda Il terreno di prova 11 Guarda Ho zoom Ancora Questo è il massimo C'era ancora Il 9 Indietro Questo è il complesso Il Collective Siamo Quale potrebbe essere L'ultimo Ospedale Io anche qua Dico Ma perché non mi fanno Un zoom A zona Titano Stare 4 Scirare Sezione 10 Dov'è che è Questa cosa Di Pablo Arena Dov'è che c'è 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 C'è